Il progetto Padrar è un concept innovativo di realizzazione e gestione di un parco archeologico diffuso nell'Alta Valle del Tavo, pensato, replicando e ottimizzando l'esperienza del parco archeologico di Filitosa in Corsica con la chiara intenzione di influenzare la scelta culturale locale e nazionale, creare nuove opportunità di lavoro per i giovani e le donne, migliorare la qualità della vita dei residenti. Il progetto intende pianificare ed esploitare anche interventi di innovazione sociale, prevenzione e contrasto al disagio giovanile e l'invecchiamento della popolazione residente nel comune di Farindola. Il comune è così duramente colpito durante gli eccezionali eventi sismici nonché atmosferici dello scorso inverno. L'attivazione ed anche la reattivazione delle fasce di popolazione giovanile e superiore a 65 anni permetterà di supportare la ripresa socio-economica. Il concept è stato pensato e condiviso insieme alle associazioni locali e alla comunità locale.